Sono tornate al lavoro ma le facce non sono serene. Dopo più di un mese di fermo per ferie e cassa integrazione, ripresa per 3.900 operai la produzione nello stabilimento Fiat di Cassino. Fino al 9 ottobre però ancora due giorni di riposo forzato a settimana, lunedì e venerdì. In pratica otto giorni al mese e secondo fonti sindacali che chiedono all'amministratore delegato Sergio Marchionne un piano industriale urgente, non è escluso che i turni a singhiozzo continuino fino a dicembre. Siamo molto preoccupati, solo questo. Quando si faranno sapere qualcosa andate più sicuro. Sappiamo un po' tutti come stanno le cose. La crisi del mercato delle auto in generale e in particolare della Fiat e dei tre modelli che si producono nel polo di Cassino hanno prodotto per ora solo incertezza e angoscia a circa 10.000 lavoratori se consideriamo anche l'indotto e trema con Cassino anche l'altro polo industriale, quello di Pomigliano d'Arco. Era la nuova Panda, la speranza degli operai della Fiat in campagna ma questa volta il modello non ha soddisfatto le attese. Le vendite e le prenotazioni sono basse e per questo dall'ingotto con un comunicato ufficiale hanno confermato che lo stabilimento chiuderà dal 24 al 28 settembre e dal primo al 5 ottobre. Stesso discorso per la fabbrica di Termoli che chiuderà i cancelli dal 24 al 29 settembre. La Cassintegrazione e il conseguente fermo della produzione, hanno detto da Torino, è la conseguenza della persistente situazione di crisi del mercato automobilistico europeo e italiano.